Ciao a tutti sono Tedima e faccio il mio primo gameplay, vabbè facciamo una nuova partita pensavo di farlo con AlphaGT però per motivi di lag non posso chiamiamolo primo gameplay, primo game, vabbè dovremmo trovare un man, però voglio farlo qui, ecco va bene qui, iniziamo la carriera sperando che non lagga, questa è la mia prima prova spero vada tutto bene, dai 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 che iniziamo subito ah, e ho messo una nuova mod per l'interno, visto, si, ok va bene, queste comunque sono le mie prime guide, si va bene, qui, ok, 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 lavoriamo per i immobili, va bene, già non mi piace, prendiamo questo coso qui, perfetto, ok, vediamo dove dobbiamo andare, dobbiamo prendere la ventesima, poi direzione Hamburgo, Hamburger da Rostock, va bene, va bene, cominciamo subito, si, aspetta cos'è, scusate stop un attimo, ok, eccoci qui, possiamo di cominciare, stiamo in ultimo, va bene, va bene, va bene, mettiamo come sempre la mappa, cioè come sempre o, va bene, 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 e con un po' che dice il video sul tipo Jewish un po' che dice a noi non si dice un po' che dice ma io voglio dire un po' che dice a che dice a noi è fatale, questa è di essere uguale da quella questa è un po' che dice al pezzo la stessa se non sessica però è una cosa che dice a me ha Gio di condivisione, non è volante quindi mi non riesco, non è un problema Se si pende di cittin, non c'è di aver damnato Sì, 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 sì. Come sta la part di quello che non si mi ha fidato, comunque c'è quello che ti risponde. Come la radio, come le radio. Wow. Cosa? Cosa? No. Gu sta? Cosa? 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 No. Grazie. Più l'altra? Sì. Si. Già. Già? Come prima tappa abbiamo Hamburgo, poi come vedete, poi dovremmo arrivare a Brema. Usando l'autostrada 1 e va bene, va bene, va bene, perfetto, hamburger, andiamo a comprarci gli hamburger, vai. Ops, cos'è sto lag, cos'è sto lag? Ops, cos'è sto lag, cos'è sto lag. Inizia a lagare, non mi piace. Comunque come ho visto c'è il bug dei cartelli che praticamente quando svoltate, al posto, che ne so, per farvi esempio, al posto di... Dai, pariamo una cavolata, al posto di Auschwitz, mi dirà sempre un nome fisso che poi vi farò vedere qual è. Ad esempio io devo svoltare dall'autostrada 1 verso una città, mi dirà sempre lo stesso nome al cartello. Perché ho notato che ho notato che è un bug della Big Map, no, non è la Big Map, boh, non me lo ricordo. Comunque è un bug. Devo trovare un'altra mod, questa non mi piace proprio, non mi piace, non mi piace. Ops, gritto, breme. Non darà brema. Ah, brema. Andiamo a brema. Un po' di tosse. Ops. Aspettate un attimo che... Ok. Ho usato un po' la radio, perché non si sentiva proprio. Che dire, comunque faccio video, faccio... Cioè, inizio a fare gameplay per divertimento. Non so, a chi vuole seguirmi, mi seguo. Comunque questo gioco da guardare è palloso. Ma cosa faccio? Ma cosa faccio? Cosa faccio? Oddio. Cosa faccio? Ecco, intanto mi diverto un po', così, colà. Intanto faccio un incidente. Intanto mi rompo il cane. Beh, dai. Intanto abbiamo 100.000. E li sfruttiamo bene. Sfruttiamo, li sfruttiamo. Il nostro man, Polini. Rapporti a lungo. Bello il plazzo. Nietizio. Ok, siamo a 99.000. 100.000. Ok, che pirla. Ho messo la sesta. Comunque, appena ci faremo il garage, dovrò potenziare mia macchina, perché siccome è da poco che gioco, comunque mi sono accorto che non posso potenziare la macchina. Ai negozi dove la riparano, cioè praticamente quei negozi con la chiave a brucola. Cioè, in poche parole, dove voi fermate è giusta la macchina. Lì non la posso, non posso potenziarla. Quasi questo è da fare benzina per sfizio. Ma hai tanti soldi, non mi spiegherò. Masticizer. Ah, mannaggia, mi sono scordato di vedere quanto costa. Quanto costa al litro. Costa grisi, c'è bisogno di guardarlo. Beh. Comunque, datemi dei suggerimenti, dei consigli. Non so, forse qualcuno che gioca più di me. Comunque, so che è press per fare video, visto che gioco non sarà nemmeno una settimana. Però, perché io in questi giochi sono molto portato e sono molto bravo. E quindi, inizio subito col fare video. Mi sono sempre piaciuti questi giochi. Cioè, già... Dai, fin da piccolo, appena erano avanti, già sono andato con il joystick in mano, con la tastiera in mano. Mi sono portato. Cioè, non sono nerd, però. Non confondetevi. Che una cosa è fare video e giocare un'ora, due ore al giorno. Una cosa è avere sempre Camtasia, che ne so. Sempre Camtasia acceso e sempre il ciopo acceso. È molto diverso, no? Io gioco solo per fare video, per divertirmi con gli amici ogni tanto. Basta. Ok, qui allora dovremmo girare per Brennan. Aspettate, voglio vedere un attimo. Ok. Brennan. Cos'è, ci stanno sti nomi tradotti e sti nomi non tradotti? Su una mappa sono tradotti? Sui cartelli no. Vabbè. Vabbè. Ok. Vabbè. Non fate caso che mi comincio a allungare in città. Quasi quasi lo taglio in città, perché tanto in città è balloso, devo fare manovre. Adesso, dai, ci vediamo. Ci vediamo quando sono arrivato al dep... E eccoci qui. Come vedete sono arrivato al deposito. Non so, appena messo il video mi inizia a laggare. Vabbè, dai, non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Vabbè, voi sentite, sto parlando in tedescia, in tedesco. La prossima volta mi tocco a mettere una rata italiana. Almeno è più in tempo. E ora, cioè, ora niente. Comunque farò video di un solo... Di una sola corsa, di un solo lavoro. E che dirvi. Grazie di vedere il video. Grazie di dare consigli, suggerimenti. Aspettate un attimo. E... Niente. Ripeto. Questo è il mio gameplay. E, per favore, non mettete i bastoni fra le gambe. Perché... Veramente, ci tengo a fare video. Cioè, non ci terrei. Grazie a chi vede il video. Grazie a tutti. Ciao, raga.